Buonasera ai nostri ascoltatori e ben trovati a questo appuntamento con l'informazione. In Consiglio Comunale oggi a Viareggio si è discusso molto del rifacimento della pavimentazione della terrazza della Repubblica. Pareri favorevoli ma pareri anche contrari non sul lavoro che c'è da fare sulla terrazza ma sul qualche dubbio da un punto di vista legale e soprattutto sapere se la sopraintendenza è d'accordo con quello che si intende fare. Il servizio. Tutti d'accordo sul rifacimento della terrazza della Repubblica a Viareggio ma trattandosi di un intervento così rilevante in Consiglio Comunale oggi le forze politiche di minoranza hanno chiesto garanzie sulla fattibilità dell'opera e qualche settimana di tempo per un parere della sopraintendenza. Per il sindaco Giorgio Del Ghingaro non ci sono dubbi. Noi come maggioranza vogliamo rifare completamente la terrazza della Repubblica. La vogliamo rendere più bella, più sicura, a misura di disabile e anche appetibile dal punto di vista turistico perché sulla terrazza arrivano migliaia di persone ogni fine settimana. Per cui noi dobbiamo rendere la nostra città più bella, lo dobbiamo fare velocemente perché non c'è tempo da perdere. Abbiamo le risorse per poterlo fare perché ci sono risorse ferme da anni per fare un'opera pubblica che non serve a nessuno e che tutti dicono essere, voglio dire, inutile. Per cui utilizziamo quelle somme per rifare la nostra città, per rifarla meglio. Cominciando dalla terrazza da una parte per finire in Darsena al parcheggio del latinoamericano che verrà completamente riqualificato, messo a disposizione dei campi, degli spettacoli viaggianti, ma anche come ricovero di attrezzature che spesso si trovano in luoghi non adatti. Quindi un rifacimento vero e proprio della nostra città, la possibilità di investire un paio di milioni d'euro per renderla più bella. Quindi in continuità con quanto abbiamo fatto finora sulla passeggiata e in altre parti belle di via Piccio. Legalmente è corretta questa operazione? Io parto dal concetto che se il nostro segretario generale, il nostro dirigente sottoscrivono gli atti dicendo che sono atti trasparenti e corretti dal punto di vista legale io non posso che fidarmi della loro professionalità. Stasera partiranno i lavori intorno alla rotonda di Piazza Santa Maria in fondo al Cavalcavia. Attenzione perché non si possono lasciare auto in sosta in quell'area e soprattutto ci sarà qualche problema per la viabilità. Il servizio. Lavori in notturna per la zona della rotonda di Piazza Santa Maria di fronte alla Torre Matilde a Viareggio. 900 metri di asfalto che verrà steso tra questa notte e la prossima per ricongiungersi e completare il lavoro di Viareggia. Per garantire il corretto svolgimento dei lavori verrà chiuso il traffico sul vecchio Cavalcavia in direzione mare dalle 21 di stasera 19 aprile alle 6 di domani 20 aprile e dalle 21 di domani 20 aprile alle 6 di venerdì 21 aprile. Nelle stesse ore sarà inoltre vietata la circolazione esclusivamente per il tempo necessario all'esecuzione dell'asfaltatura sulla intersezione Via della Foce-Piazza Santa Maria in Via della Foce nel tratto compreso tra la Piazza Manzoni e la Piazza Santa Maria oltre all'interdizione della Via Veneto nel tratto compreso tra la Via Regia e Via della Foce. Sosta vietata con rimozione coatta infine in Piazza Santa Maria oggetto dei lavori di asfaltatura su tutta l'area dalle 21 di stasera 19 aprile alle 6 di domani 20 aprile e dalle 21 di domani 20 aprile alle 6 di venerdì 21. Andiamo a Piazza Santa, lavori pubblici con una nuova staccionata per mettere in sicurezza il parco di Eucassin e poi anche lavori lungo il fiume e sulla via di Capriglia importanti lavori per consentire a eventuali piogge insistenti di poter difluire regolarmente. Decoro, sicurezza e viabilità Completata la nuova staccionata del parco di Eucassin a Tonfano intitolata la città belga gemellata l'unico nella zona della Marina dotato anche di uno sgambatoio per cani un parco frequentato da famiglie e turisti vista la sua prossimità con il centro di Marina dove il comune di Pietrasanta ha provveduto ad installare una staccionata di legno in continuità con quella già esistente per rendere ancora più sicura tutta l'area. In queste ore è in corso la manutenzione del verde sul viale acqua già interessato dal rifacimento la scorsa settimana della segnaletica orizzontale così come Piazza Statuto, Piazza Matteotti e il parcheggio dell'ex Pesa. Per uniformare e rendere omogeneo anche dal punto di vista estetico il percorso pedonale di Piazza 24 Maggio a Tonfano e dello Skate Park all'ingresso del centro storico è stata utilizzata la speciale graniglia rosso-siena. Dopo la via provinciale Vallecchia sono state liberate da terra erba e detriti anche le zanelle di via Lungo Fiume e via Capriglia con l'obiettivo di facilitare il deflusso delle acque piovane nei mesi invernali. Si tratta di azioni sollecitate dai residenti durante gli incontri avvenuti nelle frazioni. Nei giorni scorsi è stato riaperto il tratto di metati rossi al confine con il comune di Montignoso interessato da una frana e presto toccherà anche la frazione di Strinato sul versante collilare di Pietrasanta. Il decoro urbano ha interessato anche la facciata del palazzo comunale con l'allestimento che ha adornato i balconi della facciata con i colori dello stemma comunale, blu e bianco. Un'autogru della ditta locale specializzata in operazioni di alaggio e varo e di unità lavari durante una manovra di sollevamento e movimentazione di una imbarcazione da diporto nel piazzale di rimessaggio si è sbilanciata rovesciandosi improvvisamente sul fianco destro. Il braccio della gru, vincolato alla barca in sospensione, è caduto su altre due imbarcazioni nel piazzale. Per fortuna nessuna conseguenza per l'operatore della gru e per i dipendenti a terra. Per mettere in sicurezza l'area portuale sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, sul posto anche i vigili del fuoco e i tecnici della ASL. Addetti delle aziende Magica e Cucurnia hanno provveduto in un secondo momento a sollevare il braccio della gru e a riposizionare il mezzo in sicurezza sulla banchina. Successivamente sono state messe in sicurezza anche le altre imbarcazioni malgrado i rilevanti danni subiti. Restiamo in argomento e imbarcazioni, soprattutto imbarcazioni di lusso di Refit, una delle grandi specialità dell'artigianato della nautica di Porto e Via Regina. Da oggi e fino al 22, la sesta edizione di IARE. Vediamo la settima edizione, chiedo scusa. Da oggi e fino al 22 aprile in scena IARE, giunta la settima edizione e a tutti gli effetti il più originale evento di business a livello internazionale dedicato all'after sales a Refit nel settore superiotto. Punto di incontro tra aziende e comandanti, e appuntamento imperdibile nel calendario cosmopolita dello yachting. Nel corso di quattro giorni, la rassegna ospite organizza diversi focus di informazione e discussione sul mercato del comparto superiott, privilegiando incontri, business e approfondimenti. La giornata clou della rassegna IARE, l'appuntamento internazionale dedicato allo yachting industry, sarà quella di domani, giovedì 20 aprile, al centro congressi dell'Unhotel Versilia. In programma, The Super Yacht Captains, forum che affronta temi specifici che interessano l'intero ciclo di vita di uno yacht. After sales, Refit, produzione, servizi, garanzie e questioni legali, manutenzione, dismissioni, oltre a offrire un quadro sullo stato del settore Refit e sulle prospettive del mercato di produzione superiotto in un confronto con esperti relatori internazionali. Ogni workshop in programma prevede anche la partecipazione del pubblico, con interventi e domande, e presenterà notevoli spunti di approfondimento per comandanti, gli occupaggi di alto livello e rappresentanti delle imprese partecipanti. IARE è organizzato e promosso da Navigo, centro servizi per l'innovazione e lo sviluppo della nautica. Venerdì 21 aprile in programma il vero cuore di IARE con incontri face to face tra imprese e comandanti. Un modo immediato, veloce ed efficace per le imprese della nautica di incontrare i comandanti ospiti dell'evento secondo un'agenda programmata in anticipo, con sistemi informatici e sulla base di interessi espressi dai partecipanti. A Lucca e a Forte dei Marmi il Festival della Scuola, un evento importante, un evento culturale e formativo che riguarda soprattutto i ragazzi. Egidio Conca. Dopo la prima edizione del 2015, torna il Festival della Scuola che si svolgerà il 27 e 28 aprile a Lucca e Forte dei Marmi. La manifestazione è stata presentata a Palazzo Ducale che insieme all'ex Real Collegio sarà la sede degli eventi lucchesi del Festival. La manifestazione, ha spiegato la Presidente del Festival, Michela Del Carlo, vuole essere un evento culturale e formativo rivolto agli insegnanti, ai genitori e ai ragazzi, per approfondire tramite convegni e laboratori tematiche quali l'educazione alla legalità e alla salute, ma anche l'educazione linguistica e alla sicurezza stradale e il rispetto dei beni artistici e culturali. Il Festival della Scuola avrà inizio giovedì 27 aprile a Forte dei Marmi e proseguirà venerdì 28 aprile a Lucca, a Palazzo Ducale, dove in mattinata si svolgerà un importante convegno sulla lingua italiana in collaborazione con l'Accademia della Crusca, convegno al quale interverrà tra gli altri il Presidente dell'Accademia, Claudio Marazzini. Contemporaneamente nelle altre sale del Palazzo della Provincia avranno luogo laboratori e seminari sull'educazione ai diritti umani, sulla tecnologia nella didattica, sui linguaggi e su altre tematiche. In serata grande concerto di chiusura al Salone delle Feste del Real Collegio, dove si esibiranno gli studenti di sei istituti scolastici della provincia di Lucca. I dati sulla povertà e sul disagio economico delle famiglie sono tutt'altro che stabili nel nostro Paese, registrano una crescita abnorme rispetto al periodo della crisi economica. Lo afferma Kodakons segnalando che il dossier Istat sul documento Economia e Finanza, illustrato oggi nel corso dell'audizione nelle commissioni bilancio della Camera e del Senato, dà dati drammatici. L'Istat ci dice infatti che l'11,9% delle famiglie del nostro Paese nel 2016 si è trovata nelle condizioni di grave deprivamento materiale. Lo spiega Kodakons, numeri nettamente esplosi rispetto al 2010, quando in piena crisi economica il numero delle famiglie in situazione di grave deprimimento erano soltanto il 6,9%. Questo sa significare che il disagio economico dei nuclei familiari italiani è peggiorato di anno in anno e che i governi che si sono ultimamente succeduti non hanno fatto nulla per contrastare la povertà che, anziché ridursi, è aumentata in modo esponenziale in Italia. Al via gli eventi per il comitato Seravezza che sostiene Orlando, segretario del Partito Democratico. Gli aderenti al gruppo hanno organizzato per domani alle 18 presso il bar della Piazza Carducci nel capoluogo Seravezza un aperitivo di autofinanziamento per presentare la mozione con la quale Andrea Orlando è indicato alla segreteria nazionale del Partito Democratico e che corre alle primarie. Il nuovo incontro del calendario culturale di Medusa è dedicato proprio alla legalità protagonista dell'incontro pubblico che si terrà all'Esplanade il prossimo sabato 22 aprile è Alberto Vannucci docente del Dipartimento di Scienze Politiche all'Università di Pisa. Presentato in anteprima per la stampa ad Hotel Bracciotti di Lido di Camaiore il primo videoclip del gruppo musicale rock La Marea vediamo di che si tratta. Si chiamano La Marea e rappresentano la nuova icona musicale pop rock della Versilia il loro primo videoclip è stato presentato ufficialmente martedì mattina all'Hotel Bracciotti alla presenza della presidente degli albergatori del Lido Maria Bracciotti del vice sindaco Marcello Pierucci in rappresentanza dell'amministrazione comunale camaiorese. Il gruppo è formato da cinque ragazzi versilesi doc Alessandro Domenici Lorenzo Mastromei Lorenzo Benassi Filippo Rocchi e Matteo Mastromei hanno già vinto vari contest e sperano nel futuro. In questo video raccontiamo una storia diciamo d'amore tra due ragazzi che uno è interpretato dal nostro cantante Alessandro Domenici e una ragazza e questa storia d'amore è successa praticamente nel video molti tempi tempo prima è una storia ormai dimenticata solo che durante una festa in cui è ambientato questo video i ricordi ritornano prepotenti dentro i due ragazzi e c'è come uno sdoppiamento e l'anima dei due ragazzi si cerca di rincontrare per riportare alla luce questi vecchi ricordi che però siccome la vita è sempre un cambiamento non porteranno a niente infatti il video torna come se non fosse successo niente alla fine le due anime ritornano nei loro corpi e continuano le loro vite ed ora una breve pausa e subito dopo la pagina sportiva ben ritrovati alla pagina sportiva doppio derby questo fine settimana riguardante il calcio e l'hockey in ballo le principali realtà sportive della nostra Versilia il viareggio e il forte remarmi sia nell'hockey che nel calcio vediamo questo fine settimana è un doppio confronto tra viareggio e forte dei marmi si comincerà sabato sera al Palabarsacchi alle 20.45 con il derby di hockey su pista tra il centro giovani calciatori e l'hockey forte che ha una importanza relativa per la classifica in quanto i bianconeri sono ormai consolidati al terzo posto mentre il forte dei marmi per sperare di scavalcare il lodi al primo posto deve sperare in una debacle dei giallorossi sulla pista di correggio la partita è comunque attesa da parte delle rispettive tifoserie se preannunciano la coreografia degna dell'appuntamento come prova generale per la Coppa Cersa in programma il 29 e il 30 di questo mese allo stadio dei Pini è di scena invece domenica alle 15 la gara tra il viareggio del Real Forte Querceta 5 euro il prezzo del biglietto ingravinato e 10 quello in tribuna le zebbre cercano punti per un miglior piazzamento in classifica per sperare di giocare la seconda gara in casa per i play-out i nerazzurri invece vogliono punti per cercare ancora un posto eventuale per i play-off sia la Cdc che il viareggio intendono poi riscattare le pesanti sconfitte dell'andata 7 a 1 nel derby di hockey per i bianconeri e 6 a 0 le zebbre nel calcio a Forte De Balma Ancora per lo sport il viareggio Beach Soccer giocherà in Portogallo in Euro Winners Cup un incontro importante Il viareggio Beach Soccer sarà impegnato dal 29 maggio al 4 giugno a Nazarei in Portogallo per la Euro Winners Cup una specie di Champions League del Beach Soccer i bianconeri di Stefano Santini dovranno affrontare la compagine belga del Leis Pervers quella della Moldavia del Diocher Cisinau e la vincitrice del girone preliminare fra cui c'è anche la formazione tedesca del Rocker Raben che i bianconeri qualora fosse questa l'avversario avrebbero già affrontato e superato a Catania nel 2016 con il punteggio di 6 a 3 l'avversario del viareggio Beach Soccer potrebbe uscire però anche dall'otto tra le altre formazioni che sono la casa Benfica dell'Ordes Portoghese la formazione russa dello Spartak Mosca e quella greca del Napoli Patron Assemblea affollata presso la sede WISP dove si è svolta la riunione per il torneo dei quartieri versiliesi per non dimenticare presenti la maggior parte delle formazioni partecipanti a questo torneo e i rappresentanti delle associazioni Mani Blu a cui la competizione devolverà l'intero ricavato del torneo e naturalmente gli altri organizzatori che sono Mondo Calcio Versilia WISP poi il mondo che vorrei e le vecchie glorie grande soddisfazione per i patrocini ottenuti da tutti i comuni di Seravezza manca soltanto Massarosa da tutti i comuni della Versilia manca soltanto Massarosa dicevamo ma arriverà da un momento all'altro la finalissima è già programmata per il prossimo 23 giugno Alice Lunardini è una giovane atleta di Massarosa punto di forza della società Ciclita Day che ha vinto la Rampighiana una gara interregionale di mountain bike prima tappa del torneo del Tour 3 Regioni svoltosi a Cortona in provincia di Arezzo Alice Lunardini non è nuova a queste spettacolari vittorie visto che nel 2016 ha vinto la Coppa Toscana di categoria alla Rampighiana hanno preso parte oltre 1300 atleti Pugilato Vincenzo Bortone insegue i sogni di gloria l'atleta di Forte Remarmi è atteso sabato all'importante riunione sul Ring di Prato la novità è il ritorno proprio al Pugilato del peso superleggero categoria leggera Tommaso Pezzini che ha già all'attivo 45 combattimenti ed ora un brevissimo stacco e poi nella terza parte l'aggiornamento delle notizie e gli auguri di buon compleanno terza parte del nostro telegiornale non ci sono notizie particolari da darvi allora concludiamo con gli auguri tantissimi auguri a Federica Lepore di Vereggio per il suo compleanno da parte di Chloe Beppe la nipotina Rebecca Francesca Dario i genitori i parenti e naturalmente gli amici è tutto per questa edizione del nostro telegiornale l'appuntamento come sempre per le prossime edizioni a tutti voi un buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti